La Beast Gallery, il 19 settembre, inaugura la prima personale italiana dell'artista francese Philippe Herard, Isolmont. Isolmont è una serie straordinaria di 56 opere realizzate durante i 56 giorni di lockdown francese. Questa serie ha avuto un immediato successo in Francia, tanto che la casa editrice Omniscience ha desiderato dedicarle una bellissima pubblicazione. Il 18 settembre, dalle 17, Philippe sarà con noi per una diretta Facebook all'Istituto Francese che potrete seguire sulla loro pagina Facebook. Vi invitiamo a prenotare una vostra copia del libro e a presentarvi il 18 settembre, alle 18, alla Mediateca dell'Istituto Francese per una seduta di autografi con l'artista. Tra parentesi, il libro sarà messo in commercio in Francia a 35 euro e potete averlo con noi al prezzo esclusivo di 30 euro. Per prenotarlo è semplicissimo, basta scrivere a beastgalleryflorence.com. Vi aspettiamo prestissimo!